Diciamo che vittoria doveva essere vittoria è stata, perché? Perché il Brindisi ha dato seguito a quelle che sono state le indicazioni delle ultime gare, degli ultimi match, quindi un Brindisi in grande ripresa per una vittoria così pesante in un derby importante come quello con il Nardò. Sì, abbiamo disputato una buonissima partita, una partita importante contro una squadra forte, oggi pensiamo soltanto che il Nardò non aveva mai perso e poi fuori casa non aveva mai preso il gol, quindi questo la dice lunga sulla qualità dell'avversario, anche se quando sento un po' le interviste dei colleghi, tipo anche Mr. Ragno, l'altra sera ho sentito che è una squadra costruita per salvarsi, un po' sorrido perché con gli acquisti che hanno fatto, con la rosa che hanno, è una squadra di primo ordine, è una squadra che lotterà fino alla fine per il primato, quindi questo ci inorgoglisce ancora di più, abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti, dobbiamo continuare così. Felleka devastante, Opola sappiamo che è tra i suoi giocatori preferiti e probabilmente fa bene a dargli così fiducia, mister. Sì, Francesco ha fatto una grossissima partita su un campo non facile perché non era facile giocare, ma Francesco è un giocatore forte, sta facendo molto bene, siamo contenti del suo innesto, siamo contenti anche di come si è inserito in questo gruppo, un gruppo di bravi ragazzi, un gruppo veramente serio che lavora, un gruppo importante. Per quanto riguarda Malik, Malik finora ha avuto poche possibilità di giocare perché comunque avevamo un assetto anche con il 2004 a sinistra che ci dava ampie garanzie, ma lo si vede in allenamento che è un giocatore che ci può dare una grossa mano, sono molto contento perché se lo merita, perché è un ragazzo che ha lavorato sempre al massimo, poi è un bravissimo ragazzo, quindi mi fa molto piacere. La Cavese vince Martini all'ultimo minuto 3-2, il Barletta è fermato in casa da uno strepitoso Matera, ottavo risultato utile consecutivo sul 2-2, lo so che stai per rispondermi, non guardo la classifica, ma domenica si va. Sì, non guardo i risultati delle altre perché noi dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo intrapreso un percorso da qualche partita a questa parte, un percorso fatto anche con scelte abbastanza importanti, oggi anche avevamo tantissimi under in panchina, quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo credere in quello che facciamo, nel lavoro, le altre è troppo presto per guardare la classifica, la faremo fra un po' di tempo. Grazie